Buonasera a tutti, oggi inizia ufficialmente una serie che voglio portare periodicamente sul canale ovvero quella dove andiamo ad analizzare le 5 più grandi posizioni dei più grandi top investor mondiali come avrete letto dal titolo oggi che è il primo episodio andiamo a vedere il portafoglio di Charlie Munger che è il vicepresidente della Berkshire Hathaway che è di fatto uno dei più grandi hedge fund al mondo per chi non sapesse ovviamente Charlie Munger è anche la spalla destra di Warren Buffett forse è il più grande investitore di tutti i tempi e se come vi dicevo il più grande investitore di tutti i tempi ha scelto una persona del genere al suo fianco ci sarà un motivo oggi andiamo a capire un attimo come è suddiviso il suo portafoglio prima di partire però citerei che nei commenti qua sotto mi diceste quale top investor vorrete vedere nel prossimo video considerate che possiamo magari andare a vedere o Warren Buffett o Michael Burry o Katie Hood Lee Lu anche molto interessante o Ray Dalio fatemelo sapere questo nei commenti o anche qualcun altro tipo Jim Simmons è un altro molto interessante se avete piacere che io analizzi le varie posizioni fatemelo sapere questo nei commenti una cosa che possiamo vedere subito andando a vedere la performance del portafoglio di Charlie Munger possiamo vedere appunto che nell'ultimo anno ha praticamente performato in modo presso che uguale l'esempio 500 leggermente sotto performato ma se andiamo a prendere una performance più lunga ad esempio gli ultimi 5-10 anni ha sotto performato tenete presente che il portafoglio che stiamo vedendo ora è il suo di portafoglio non è il portafoglio della Berkshire Hathaway perché infatti la Berkshire Hathaway ha sovra performato l'esempio 500 eppure di tanto andiamo a vedere però come è suddiviso il portafoglio di Charlie Munger come potete ben vedere il portafoglio di Charlie è suddiviso in sole 4 aziende che sono Bank of America, Wells Fargo, Alibaba e US Bancorp l'ultima posizione infatti post-coldings la ha semplicemente chiuso totalmente nell'ultimo quarter una cosa che tra virgolette mi piace e non mi piace è il fatto che sia attualmente sovraesposto sul settore finanziario che in questo tipo di scenario che è quello dove ci sono i tassi di interesse così alti può essere un'ottima scelta però penso che sul lungo termine generalmente se vuoi ottenere una performance superiore rispetto a quella dell'indice di riferimento ovvero l'esempio 500 tecnicamente un portafoglio del genere non dovrebbe sovra performare quindi non dovrebbe riuscire appunto a battere l'esempio 500 come potete vedere una cosa curiosa è il fatto che abbia praticamente dimezzato la sua posizione in Alibaba nonostante avesse comprato a febbraio 2021, comprato ad agosto e comprato a dicembre poi ha deciso di vendere praticamente tutto quello che aveva comprato a novembre a febbraio in perdita ora andiamo ad analizzare le singole azioni e le singole posizioni in ordine crescente in termini di percentuali del portafoglio la prima che andiamo ad analizzare è US Bancorp per farlo utilizzeremo l'algoritmo creato da me ed un mio amico per la valutazione aziendale tra l'altro se avete piacere che io vi porti un video approfondito su come funziona l'algoritmo fatemelo sapere qua sotto nei commenti molto brevemente l'algoritmo funziona che in base agli input che diamo che sono all'incirca una sessantina ci dà una valutazione da 1 a 10 di bontà dell'azienda US Bancorp ha una valutazione di 5,94 che è abbastanza bassa per quanto riguarda lo stato patrimoniale di US Bancorp abbiamo un voto di 4,88 che è abbastanza basso infatti tendenzialmente non investo in aziende che hanno un voto sotto il 6 semplicemente perché così riduco il rischio che magari l'azienda mi fallisca o che non riesca a ripagare semplicemente i debiti e quindi si crei una situazione in cui magari debba aumentare il debito per ripagare il debito a quel punto lì preferisco tendenzialmente investire in aziende che hanno voti sopra il 6 che indicano teoricamente una situazione buona patrimoniale per quanto riguarda il conto economico invece abbiamo un voto di 5,5 quindi un voto abbastanza basso in questo caso qua invece nella parte migliore del settore finance appunto abbiamo i multipli infatti tutti i multipli di questo settore qua sono sempre abbastanza bassi infatti abbiamo un price earnings di 11, un prezzo di 63,21 in generale possiamo vedere anche come abbiamo 9,35 come earnings yield e il tutto porta ad avere una votazione di 9,33 su 10 che è molto molto alta in generale ho preso le stime un po' degli analisti e ho stimato una crescita degli utili per azioni da qua ai prossimi tre anni di circa 10% anno con un dividend yield del 4% che è abbastanza elevato ci portano ad avere una votazione tra tre anni all'incirca di 68 dollari che sembra molto molto interessante quindi tendenzialmente questa potrebbe essere un'azione da tenere d'occhio la seconda azienda di Charlie Munger partendo dal basso è Alibaba nella quale ha ridotto del 50% la posizione la votazione del sotto patrimoniale è di 9,33 quindi molto molto alta e come lo sapete tutti Alibaba è sempre stata super solida anche perché ha una quantità di cash molto elevata infatti ha tre volte il debito in cash quindi perfetto per quanto riguarda invece il conto economico questa è una votazione temporanea perché se voi andate a vedere gli ultimi conti economici potete darmi ragione sul fatto che sostanzialmente siano un po' in deterioramento rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda i multipli invece siamo super tranquilli infatti abbiamo un price earnings di 15 un price to free cash flow di 13 che portano ad avere una votazione generale per quanto riguarda i multipli di 7,33 su 10 quindi molto molto elevata se noi andiamo a vedere il discounted cash flow possiamo vedere come attualmente Alibaba secondo i miei calcoli sia abbastanza sottovalutata infatti abbiamo un fair value intorno ai 170 dollari che è molto più elevato rispetto al prezzo attuale per quanto riguarda la valutazione finale abbiamo un possibile guadagno del 36% nei prossimi tre anni indicando una crescita dell'utile operazione del 7% anno e un PA di 17 quindi secondo me è tutto abbastanza conservativo le ultime due posizioni sono Wells Fargo e Bank of America per quanto riguarda Wells Fargo tra l'altro io l'ho detto per scontato ma penso lo sapete tutti no? che US Bank of, Wells Fargo e Bank of America sono tutte e tre banche questo l'ho immaginato, non l'ho detto per scontato però penso lo sapete tutti per quanto riguarda invece Wells Fargo abbiamo un dividend yield del 2,71% e per i prossimi anni è prevista una crescita all'incirca del 9% anno sull'utile operazione per i prossimi tre anni che portano ad avere un valore tra tre anni di 5,05 io personalmente ho stimato un PA di 11 quindi possiamo vedere come tendenzialmente su Wells Fargo si possa guadagnare tra dividendo e aumento di valore dell'azione all'incirca un 36% nei tre anni che non è assolutamente male quindi tendenzialmente per ora abbiamo visto che il portafoglio di Charlie Munger come vi avevo detto potrebbe performare bene nei prossimi tre anni visto il contesto in cui ci troviamo l'ultima azione è Bank of America che come vedete potrebbe avere una performance molto simile a quella di Wells Fargo solo che personalmente se dovessi scegliere tra le due ovviamente sceglierei Bank of America perché mi sembra molto più solida e anche guardando i dati di bilancio mi sembra anche molto più valida qua abbiamo un dividend yield del 2,5% e stimando la crescita dell'8% annuo più o meno abbiamo un'ultima operazione di 4 dollari fra tre anni un PA di 11 che ci porta ad avere un valore per azione di 45 dollari fra tre anni e un guadagno tra dividendo e aumento di valore dell'azione di all'incirca 37 dollari quindi tendenzialmente abbiamo valutazioni generali del mio algoritmo non altissime perché sono sempre tutte tra il 5,5 e il 6 quindi in generale non aziende super solidissime e non aziende che crescono a ritmi elevatissimi ma tendenzialmente aziende abbastanza stabili che tramite il loro dividendo garantiscono tra molte virgolette un rendimento onesto, buono quindi personalmente penso che il portafoglio di Charlie Munger sia un buon portafoglio che possa performare bene nei prossimi tre anni semplicemente perché ci troviamo in un contesto in cui le aziende finanziarie potrebbero performare bene detto questo fatemi sapere nei commenti quale top investor volete nei prossimi episodi e niente ci vediamo al prossimo video e non ci vediamo al prossimo video